vai puoi andare vai hai schizzato troppo, fai schifo, fai schifo. Manu ti ricordi a quella? Anche io io fanno, andai ma io so notare, vai Manuè vai, ti faccio vedere dove Matti, metti il bordo, vai Manuè, faccio vedere chi sei, vai Manuè, fai schizzato Mattia, su telefono vai, toglieli, Mattia, toglielo avanti, così potete farlo, boom, vai, vai, stai attento a quando sali però non riesci a salire di qua ma se la fai ma tu bello adesso adesso aspetta 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 vai sempre più avanti ma te più avanti qua vai l'ultimo la fatale pure a giulia ma non è fatale pure a lei vai 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 e mi scherzi tu tutta lei fai buttare il bambino e poi fai le tuffi tu Giulia ok bene bene sta attento eh no no però era piatto quindi non mi sono fatta niente ma prendi la maschera così vedete qua sotto che c'è guarda la maschera bellissima eh no no ne puoi pesare più per le tuffi ah no no devo fare le tuffi senza più schizzi l'acqua c'è la telepropa dovevo buttare no ma prendi la maschera basta le tuffi �i rischewi siamo bello 3 eh vai non ti fai addono insomma no la maschera no tu vedi qua sotto con la maschera, il nome è bello qua, sott'acqua è bellissimo fai fare un tuffo a Giulia vai spostatevi una bella bomba Giulia come sei tu vai Giulia però mi sto stancata a fare il video vai, non lo devo fare almeno non tuffo tu vai alzati, alzati alla in piedi vai, quasi vai vai, adesso tuffati, vai, più qua Giulia più qua, non hai paura lo vuoi fare o no se no non lo farei più qua, tuffati qua, no più qua, eh devi tracciare di più, vai, 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 più avanti forza vai, avanti più avanti forza no al in piedi ti tuffi qua, qua, guarda dove sta Emanuele ragazzi, vai dai no la mattina no stancando il braccio, perché è più alto e dai, vai Giulia, vai te la limpi no così e vabbè, sto facendo un video tra i tre e uo, basta, ciao